Sostituendo al Parlamento la Corte si sta sostituendo vergognosamente alla volontà del popolo. Noi non possiamo accettarlo. Rimaniamo alla Camera andando a vedere uno stralcio dell'interrogazione risposta immediata del deputato Marco Rondini al Ministro Cancellieri sul caso di cronaca avvenuto a Gorgonzola in provincia di Milano in cui un pilota della strada ha ucciso una ragazza. Il 10 luglio 2013 la sedicenne Beatrice Pappetti mentre attraversava la strada provinciale padana superiore a Gorgonzola è stata investita da un'auto pirata ad altissima velocità che ha poi continuato nella sua folle corsa senza fermarsi per prestare soccorso. Dopo sette giorni di indagini serrate da parte delle forze dell'ordine per individuare l'autore del crimine che nel frattempo era fuggito e si era nascosto martedì 16 luglio 2013 El Abib Gabardi si è costituito. Due giorni dopo che i carabinieri avevano tradotto in carcere il magrebino il giudice per le indagini preliminari di Milano dopo l'interrogatorio di garanzia non ha accolto le richieste del PM che invece aveva chiesto che l'uomo venisse tenuto in carcere e dunque ha concesso all'investitore gli arresti domiciliari che è tornato nella sua casa a due piani in una tranquilla corte nel centro di Roncello in Brianza. Bene, noi chiediamo al Ministro se ritenga opportuno adottare iniziative per introdurre finalmente nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale a carico di chi provoca incidenti mortali e di assicurare a chi si macchia di tale reato l'espiazione della pena negli appositi istituti penitenziari sin dal momento dell'arresto. Prego, ha facoltà di rispondere. Comprendo lo stato d'animo dei familiari e della ragazza per una tragica vicenda che ha toccato profondamente anche il sentimento dell'opinione pubblica tuttavia non possono rilevare che per previsione costituzionale il Ministro della Giustizia non può intervenire sulle valutazioni di merito dell'autorità giudiziaria peraltro ricordo che i termini per l'eventuale impugnazione da parte del Pubblico Ministero non sono ancora scaduti. Per quanto riguarda il profilo relativo all'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di omicidio statale preciso che allo Stato non sono lo studio di questo governo iniziative normative sul tema che peraltro costituisce oggetto di diversi disegni di legge che bidono a configurare tal delitto quale fattispecie dolosa con conseguenti inasprimento del trattamento senzionatorio. Quanto infine al profilo dell'eventuale previsione dell'obbligatorietà della custodia in carcere nei confronti dei responsabili di tali reati la Corte Costituzionale, con ripetute ed anche recentissime pronunce da ultimo la 232 del 16 luglio 2013 ha affermato l'illegittimità costituzionale di previsioni normative ad eccezione del delitto di associazione di tipo mafioso volta ad ancorare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a criteri di mera automaticità Beh, diciamo che non siamo assolutamente soddisfatti della risposta intanto perché non avevamo chiesto che il Ministro o il Governo intervenissero sulla capacità di giudicare di un magistrato se concedere i domiciliari o lasciare in carcere una persona che sì, non può reiterare il reato o non può inquinare le prove ma sicuramente non ha dimostrato buona volontà si è costituito solo quando il cerchio si era stretto intorno a lui ecco, e poi in più noi non abbiamo chiesto al Ministro di intervenire su quella decisione del Magistrato che ingiustamente e inconcepibilmente ha permesso al Magrebino di tornarsene comodamente a casa sua lasciando comunque la famiglia distrutta dal dolore provocato da una persona che volutamente si è nascosto per giorni e solo quando il cerchio si è stretto intorno a lui ha deciso finalmente di consegnarsi non chiedevamo al Ministro di intervenire su quella decisione inaudita chiedevamo al Ministro se era nelle sue intenzioni di adottare un provvedimento di prendere in considerazione la possibilità di inserire nel nostro ordinamento del codice penale il reato di omicidio stradale ed è logico che si chieda per chi magari si mette alla guida di un autoveicolo sotto l'effetto dell'alcol piuttosto che della droga oppure percorre le nostre strade ad alta velocità è logico che per queste persone per queste persone che risultano che per noi sono dei cretini e che diventano dei criminali nel momento in cui ammazzano qualcuno è logico prevedere che queste persone stiano immediatamente quando arrestate in carcere e non comodamente a casa loro questo noi chiedevamo per questo noi non siamo assolutamente soddisfatti come ho già avuto modo di annunciare nella scorsa settimana intervenendo in aula noi stiamo predisponendo e a breve depositeremo un disegno di legge volto a far recepire dal nostro codice penale il reato di omicidio stradale la Corte Costituzionale io ritengo che debba uniformarsi anche a quello che è il sentire comune ma non sono le tavole della legge che sono immodificabili quindi io credo che i magistrati debbano cominciare a prendere coscienza che delle loro azioni devono rispondere anche davanti all'opinione pubblica grazie